benvenuti a questo mio nuovo video sulla presentazione della mia tecnica di consulenza personale in che cosa consiste la mia tecnica di consulenza la la prima tappa è quella della descrizione del problema quindi comporta ascolto e cooperazione molto spesso la mente si apre già nel momento in cui il problema la situazione viene descritta precisamente e chiaramente sembra un'ovvietà ma se non si pone questa come regola iniziale non si può procedere proficuamente in molti casi questa è la parte più difficile perché il problema iniziale ne nasconde molti altri dopo di che cioè dopo aver definito il problema si chiariscono i pensieri e le emozioni connessi il procedimento è razionale di tipo socratico cioè si procede con una domanda con domande le cui risposte possono far avanzare il processo di chiarimento qui la difficoltà consiste nel fatto che spesso le domande sono difficili da accettare da parte del cliente questa fase può occludere impedire il passo successivo quindi quando si hanno una serie abbastanza soddisfacente di espressioni prodotte in seguito alle domande si riformula il problema e la comprensione del contesto per vedere insieme se il quadro è più chiaro spesso ci sono epifanie altre volte blocchi a questo punto si vede se è possibile un'altra sessione se il procedimento razionale che attuiamo si confà al cliente se ci sono già benefici o se il cliente necessita il consulto di uno specialista medico finanziario di uno specialista in un settore specifico vista la semplicità della tecnica e della procedura uno potrebbe pensare che chiunque si possa improvvisare e applicarla ma non è così ve lo assicuro ci vuole una lunga preparazione esperienza e l'aver frequentato una molteplicità di aspetti della vita e anche una certa forza mentale e emotiva alcune persone sono in una situazione tanto complicata che non riescono nemmeno ad esprimere la formulazione iniziale del problema o del contesto inoltre la tecnica che ho descritto fin qui non è un protocollo rigido ma sono linee guida la cui applicazione dipende dalle abilità e l'esperienza del consulente i benefici derivanti dalla chiarificazione del problema sono enormi e non ci si rende conto di questo in quanto la maggior parte delle persone cercano una soluzione facile un quick fix come dicono gli inglesi ma gran parte della soluzione sta in questa fase del consulto cioè nella prima fase inoltre il retroterra culturale del consulente è determinante è molto importante io mi servo di molte conoscenze e tecniche acquisite inoltre 40 anni di lavoro su me stesso e più di cinque anni di consulenza con gli altri per gli altri grazie di aver ascoltato fin qui se questa tecnica di consulenza personale vi interessa o se conoscete qualcuno che potrebbe trarne beneficio o se pensate che essa si confaccia al vostro modo di pensare allora vi chiedo di lasciare un commento ma se avete delle critiche delle osservazioni perché no io sono disposto ad ascoltare la critica fatta con intenzione positiva e costruttiva di nuovo grazie di aver ascoltato fin qui lasciate un like condividete aiutatemi a diffondere questo servizio alla prossima